A Cavologna, durante il maltempo di ieri, un fulmine ha scaricato tutta la sua potenza sulla cinquecentesca chiesa della matrice del borgo medievale, causando seri danni. La saetta ha centrato la lanterna absidale che sovrasta l'altare maggiore della chiesa matrice. Il fulmine ha originato un incendio che ha trovato alimentazione nelle travi in legno del sottotetto dirigendosi verso la navata di sinistra, interessando prima una delle cappelle laterali e subito dopo la diacente stanza ufficio del parroco Don Rocco Agostino. Tanta la paura nel circondario e poi le visite nel pomeriggio. Tra tutte quelle del Vescovo di Locri Gerace, Monsignor Francesco Liva, che è andato direttamente a sincerarsi di quanto accaduto.